Martedì 4 settembre, siamo ancora a CiperTV, siamo ancora a Crosses Belizio, benvenuti e adesso vi spieghiamo subito la classe di oggi. Incominciamo con tre minuti o sul rower o sulla bike o, visto che il tempo è ancora abbastanza buono di corsa, seguiti dal brezzel, un esercizio che eseguiremo due minuti su un lato e due minuti sull'altro. Qui sotto trovate i link se ancora non lo conoscete. Seguirà un piccolo warm up con gli elastici dove andremo a far lavorare prima i nostri fianchi e successivamente invece faremo degli squat sempre utilizzando gli elastici. A questo punto siamo pronti per la parte di forza dove andremo a costruire un set molto pesante di 8 deadlift con elastico. Questo vuol dire? Vuol dire che il nostro bilanciere sarà bloccato a terra da un elastico e noi oltre al peso del bilanciere dovremo vincere anche il peso dell'elastico, quindi banded deadlift. Fatto questo passiamo al VOD dove avremo 3 minuti unwrap e 4 minuti rest. Nei 3 minuti unwrap avremo 400 metri di run, deadlift e box jump. Nel primo giro avremo 27 deadlift, nel secondo giro ne avremo 21, 21 deadlift e 21 box jump e nel terzo giro ne avremo 15. I carichi per gli avanzati 120 kg per quanto riguarda i deadlift e 24 pollici e 20 pollici per quanto riguarda i box jump. Per gli intermedi 100 kg e 24 e 20 pollici, 24 per le donne e 20 per gli uomini e per quanto riguarda i beginners avremo 70 kg per gli uomini e 40 kg per le donne nei deadlift e 20 pollici e 16 pollici l'altezza dei box. Buon divertimento, ci vediamo domani!